Nome? Il giorno dell'assunzione. Il primo giorno in cui ho indossato la rinisi. Il sogno nel cassetto? E me lo chiede. Vedere realizzato un acquedotto che porti l'acqua dall'Irpinia alle case delle genti di Puglia. Diventare come la dottoressa Portincaasa. Arrivare ai massimi livelli possibili della mia struttura territoriale. Cosa direbbe a Manuela e Nicola? Andate con fiducia verso il futuro. Ma non dimenticate mai da dove venite. Cosa direste a Matteo Renato? Vorrei semplicemente ringraziarlo per quello che ci ha lasciato. Grazie.